Qualcuno lo chiama il business del ventunesimo secolo. Molti lo considerano un'attività a prova di recessione. Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi al mondo, lo ha definito semplicemente il migliore investimento che abbia mai fatto. È un settore in crescita costante negli ultimi venti anni e che ha avuto un'espansione di quasi l'80% negli ultimi dieci. È un settore che ha un giro d'affare di circa 30 miliardi di dollari in America e più di 105 miliardi di dollari in tutto il mondo. Un settore chiamato vendita diretta e più di 13 milioni di americani e 57 milioni di persone in tutto il mondo ne fanno parte oggi. Questo è un business che sta esplodendo. E perché sta esplodendo? Per quattro motivi. legge del passaparola, il boom del lavoro da casa, pochi rischi e alti guadagni. E non è richiesta esperienza. Come cittadini che vivono nell'era dell'informazione siamo continuamente bombardati da messaggi, tv, stampa, cartelloni, striscioni. La realtà è che non abbiamo più fiducia nei media, ma abbiamo fiducia nei consigli personali di amici e familiari. Niente vende meglio del consiglio di un amico. Puoi chiamarlo marketing referenziale, passaparola, uno a uno. In ogni caso si tratta di un enorme business ed è quello che guida la vendita diretta. Anziché spendere milioni per la pubblicità tradizionale, le società di vendita diretta pagano le persone che usano, amano e parlano entusiasticamente dei loro prodotti e servizi. Questo passaparola da persona a persona si può realizzare sul posto di lavoro, in un bar, al telefono, in internet, in qualsiasi luogo. Una generazione fa, il modo più sicuro per ottenere delle certezze economiche era andare a scuola per poi ottenere un buon posto di lavoro. Aprire un'attività in proprio era un rischio. Una volta si diceva che l'unico modo certo di assicurarsi fosse quella di aver lavorato in una società come impiegato. Oggi non più. Il lavoro improprio non è la moda del futuro, è la certezza del presente. A testimonianza di questo, la rivista Fortune ha messo questa frase su una loro copertina. Dimentica l'orario 9.17, dimentica le detrazioni fiscali della tua busta paga. Questa è l'era della vendita diretta. Crearti un lavoro da casa partendo dal nulla può essere costoso e rischioso, ma non con la vendita diretta. Perché? Perché le società di vendita diretta ti supportano con gli strumenti, i sistemi e gli addestramenti di cui hai bisogno per cominciare a guadagnare subito e con costi iniziali minimi. Questo fa della vendita diretta un metodo pratico ed accessibile per milioni di persone che vogliono un guadagno extra, part time, senza doversi licenziare. E questo è uno degli aspetti che l'autore David Buck, esperto di finanza e vendita diretta, ha analizzato. La cosa positiva della vendita diretta è che trovi già tutto pronto. Hai solo bisogno di trovare una società seria che ti offra un prodotto in cui tu credi e di cui ti appassioni. Forse però il motivo più importante di tutti per il successo e la straordinaria popolarità della vendita diretta è semplicemente che tutti possono farlo. Successo e vendita diretta non richiedono una speciale istruzione o particolari esperienze di lavoro. Non ti troverai messo da parte o discriminato in alcun modo sul passaparola, lavoro da casa, con pochi rischi e alti guadagni che ognuno può realizzare. Questa attività sta letteralmente esplodendo. Se vuoi iniziare anche tu a costruire la tua attività di vendita diretta in proprio, rivolgiti alla persona che ti ha dato questo video.